Dietro Franco Califano, Ligabue e Renato Zero, il talento di Max Giusti. Buongiorno Max. Ciao Giorgia, buongiorno a te. Ben tornato a TG1 Maxina. Vedi, sono tornato, un paio d'anni fa ero venuto. Quando sei stato? L'anno scorso sei venuto. L'anno scorso, l'anno scorso. Oh, mentre ti riguarda e vede, tu però, sono bravo. No, no, mi piaceva l'immagine di Califano, invece Ligabue di profilo non gli assomigliavo per niente. Ero pure bello un cicciottito là, anche se adesso... Io sono nelle fasi, mi gonfio, mi sgonfio, ma quella è una cosa atavica, insomma. Beh, adesso poi diciamo che hai festeggiato il tuo ultimo compleanno pochi giorni fa. Eh sì, pochi giorni fa. Hai fatto una grande festa, tra l'altro nel giorno del tuo nuovo One Show, Mollicine. Sì, sì, Mollicine, è stato l'inizio, insomma, è ripartita questa tournée dopo averlo fatto debuttare al Sistina di Roma, a parte questo grande tour, c'è una parte estiva e poi una parte invernale, diciamo, di quelle vere, no? C'è un tour, alla fine finiremo quasi con 40 date, quindi tanti teatri importanti, tante città importanti, Milano, il Teatro Alcimboldi, il Verdi a Firenze, il Teatro Team di Bari, e poi Ferrara, e poi Fermo, e poi... Poi... e poi tutte, tutte le gente, Padova, Brescia, Bologna, Biella, Reggio Calabria, Bolzano... Sei praticamente più in teatro che a casa. Sì, più in teatro che a casa, però almeno non do fastidio, non do fastidio. Secondo me, la vera promoter della tournée è la mia famiglia che dice, almeno ce lo togliamo e... Libertà in casa, perché Max è a teatro. Senti, posso chiederti a che cosa hai brindato, visto che è stato appunto il tuo compleanno? Un brindisi particolare. Ma guarda, un brindisi... Alla vita, alla vita, perché la vita ha tante accezioni, tanti colori, ho blindato veramente alla vita, perché non è mai scontato, non è mai scontato. Vero. Non è mai scontato e... Il mio è stato un anno di tantissime gioie, ma anche tantissime ansie, piccole, grandi paure, quindi ho blindato alla vita. Oh, tu sei il re delle battute, ma quanta battute noi abbiamo scoperto che c'è qualcuno che ti batte. Battute! E dico battute, vuoi un aiutino? Perché come sapete, Max Giusti è un grande appassionato di tennis. Sì, è vero, è vero. Socio della federazione. Sì, sì. E sei riuscito a far sorridere, forse, il talento, il numero uno al mondo, che a noi sembra comunque molto composto. Sempre compito? No, dopo vi dico due cose su di lui. Vediamo un po' che cosa hai fatto. Guardate, voi vedete anche di chi siamo. Yannick Sinner, eccolo qua. Ciao Yannick, come stai? Ciao, tutto bene a te? Bene, molto bene. Senti, hai detto io che non ami le interviste, è vero? Esatto. Questa sarà molto peggio di tutte le altre. Mi schiaccio per te. Ma tranquillo, me l'aspetto. Tutti dicono, no, che tu sei forte perché rispetta gli altri, anche se sei molto giovane, sei molto freddo, così, ma secondo me invece tu hai un sacco di emozioni dentro. Cioè durante la partita cambiano tante emozioni diverse che hai dentro, o no? Eh, dentro sì, cambiano. Poi però io provo sempre a non farlo vedere. Quindi riesci a gestire, riesci a gestirlo? In qualche modo ci provo. Certo, per esempio che ne so, adesso sei felice dentro di te, no? Sei felice? Fammi la faccia felice. Bella, bella, bella. Fammi la faccia arrabbiata. Beh, fammi quello, fammi la faccia innamorata, innamorata. Eh sì, va bene. Sono tutte uguali, cioè, non c'è un'espressione, sono tutte uguali, vabbè. Non fa il tenista, non fa l'attore, se no ti muori di fame. Non ho mai visto ridere così tanto, Silvio. Guarda che Gianni, che è un ragazzo proprio straordinario. L'ho avuto la fortuna di conoscerlo già da adolescente. A parte che si intervista era proprio quella, appena ci si poteva mettere, ci si poteva muovere sotto il colpo. Covid, infatti ero bello robustello perché mia moglie panificava pesantemente all'epoca durante il Covid. Noi Gianni che è esattamente, cioè, è molto serio, professionale compito, ma fuori dal campo, è di una simpatia. Cioè, veramente un ragazzo di quel proprio grande compagnone. Ma tu l'hai conosciuto che lui aveva 12 anni, è possibile? No, io l'ho conosciuto, ce n'aveva già 13 e mezzo. Ah beh, vabbè. 14, sì. A 12 ne ho sentito parlare da Alex, che era il mio amico, che è il suo, diciamo, amico del cuore, un po' la persona con cui lui si confronta e consiglia da sempre. Perché è stato quello che poi, il primo forse l'ha notato e poi, vabbè, sappiamo tutti chi è. Ma te l'aspettavi il numero uno al mondo? Sì. Te l'aspettavi? Me l'aspettavo perché, perché lavorando in federazione al settore tecnico, ho fatto per due mandati il consigliere federale. Avevamo tutti i report dei ragazzi e lui era quello che, noi vedevamo, a parte era il più bravo, il più veloce con i piedi, era molto mingherlino, però un'attitudine incredibile. Vi dico, cioè, quando i nostri ragazzi andavano, che so, al raduno federale, mi tosto a fare delle, che ti fosse, le rappresentative italiane nelle squadre, nelle competizioni internazionali giovanili, diciamo, alcuni ragazzi tendevano a spegnere la luce tardi. Gianni, che alle otto e mezza ricordava le racchette, alle nove dormiva, insomma, già si capiva che era molto quadrato e sono molto, molto fiero di lui, di quello che fa, come tutti gli italiani. Senti, ma lo sento ogni tanto, vabbè, perché vedete, Max Giusti, come si accende quando parla di tennis, ma lo sento ogni tanto e non so se l'hai sentito dopo questa tonsillite. Ma ultimamente no, ultimamente no. Perché sappiamo che non hai potuto andare all'Olimpiadi. Ma guarda, io non entro mai nel merito delle cose, perché quando sei un atleta come lui hai centomila pressioni e io lo sento solo nei momenti di off-season, magari con telefonate bizzarre, telefonate molto cameratesche, ecco, dove si, così può dire, l'attigione si cazzeggia un po', sì. Perché poi ha già un team di persone così brave che lo seguono e quindi va bene, non entro mai nel tecnico, faccio solo in bocca al lupo e sono fiero di esserci, di vederlo da tifoso. Eh sì, e noi ci associamo chiaramente, adesso lo aspettiamo agli US Open. Allora, tra le tante cose che ha fatto Max Giusti, ce ne sono alcune a cui sei particolarmente affezionato. Quali saranno? Quali saranno? Ho sempre paura. Ho sempre paura, guarda un po', infatti questa, l'incognita è una parola chiave. Sai cosa c'è? Che con te l'intervista è come una scatola di cioccolatini, non sei mai quello che ti capita. Oh beh, grande, grande citazione questa, magari. Allora, guarda, non è Forrest Gump, ma è Boss in incognito. Sono Antonio e sto per andare in missione per conto del Boss. Andiamo. Un po' la devi tenere su. No. Cavolo, Luciano, però guardami. Luciano, avrò io. Boss, vieni giù. Siamo pronti a farvi conoscere nuove aziende, nuovi imprenditori e nuovi lavoratori che fanno grande il nostro paese. Preghiamo numerico, non so. Quando male, facci, guarda. Salsicce e ferielli per voi due. Piano piano. Schiaccio. No, esperto. Come è così? Ah, no, 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 scusami, scusami. Ah, prima su qua, scusa. Andiamo. La velocità, una cosa più importante. La scusa, una fornata, una. L'hanno sparato? Sì. Oh, gamba. Non piangiamo. Basta. Ma siete proprio dei bastardi siete. Grazie a Bossi d'Incognito. Beh, Max, deve essere stata un'esperienza anche a livello umano, no? Penso importante. Ah, fortissima, fortissima. Allora, sono molto grato a Bossi d'Incognito. Ah, perché è stato il programma che ha segnato il mio ritorno in Rai, in realtà. E quindi sono molto grato per questo. E poi perché cambia un po' i parametri della tua vita, no? Cioè, tipo, dei tuoi problemi. Dici, ma guarda che casino, ma guarda che non mi dice bene mai. Poi vedi che c'è tanta gente nel nostro paese che ha una serie di problematiche infinite, ogni giorno si sveglia, le affronta e non si lamenta mai. È vero. E quindi aiuta a ridimensionare un po' una scala dei valori mia personale. Ma poi dopo hai portato anche la tua abilità nei dialetti, perché qua abbiamo sentito napoletano e poi marchigiano, sai, da marchigiana. Eh, gente delle marche, gente che scappa de' Magierata perché teme l'aretata, gente che fugge a Bogotà perché se vuole un po' rilassare, marche violente. No, sai cosa c'è? Io penso di... ho usato un po', no? Salutiamo le mie marche. Eh beh, anche le mie. Quest'inverno col tour sarò a fermo per tre giorni. Mi raccomando. Credo che siamo già... sono certi di fare tre esauriti, perché lì sono un po' mi giochi in casa, ma insomma la torre sta andando molto bene già. Ma sai cosa c'è? Che alla fine, quando ho preso Boss in Incognito, cioè, quando ho potuto scegliere un programma per tornare in Rai, subito dopo Boss in Incognito, ho scelto Boss perché ho immaginato questa cosa, cioè la cosa figa, bella, sarebbe stata cambiarlo un po'. E quindi per la prima volta proprio nella storia di Undercover Boss, che è un format internazionale, c'è stato il conduttore che anche lui entrava in Incognito. è un po' usato il mio modo di parlare, a volte di poter essere abbastanza duttile. E poi è successo che una volta questo esperimento non ti è riuscito. Guarda. Ah, ho capito, mi sa. Guarda. È sempre lui, è Fiorello. Guardate. Mauro, per una settimana, per tutti quelli che lavorano con lui, non sarà più quello che sta di fianco a Fiorello senza un reale motivo. Sarà Alfredo, il nuovo stagista di Viva Rai Due. Mi raccomando, gli occhi, eh? Mauro Caciari, dopo più di due ore di trucco, è irriconoscibile. Ma avete fatto una trasformazione incredibile. C'ho pure gli occhi dritti. Ciao, sono Alfredo, il nuovo stagista di Viva Rai Due. Lui è Mauro Caciari e questo è Rossi in Incognito. Alfredo entra timidamente in sala autori. Buongiorno. Caciari, Caciari, ti ho riconosciuto. È da due ore che ti stiamo cercando, però. Dai, su. Poi con gli occhi dritti sta malissimo. Allora, vuoi fare sta cosa? Un minimo di trucco ho fattelo fare. Ma come avete fatto a riconoscermi? Si vede a occhio nudo? Si vede. Già da fuori si capiva che eri te. Io, boh. Una cosa deve fare, guarda. Ti dovrebbe sembrare? Non lo so. Posso dire, io oggi sono stanco perché sono in pieno turco, beh, ma guardate la mia faccia, lì da Fiorello, si vede che si fa alle cinque e mezza di mattina, perché mi sa proprio... Lo sappiamo bene, va fatto svegliare presto il Fiorello. Mamma mia, ogni tanto gli mando... A parte lo saluto, va... gli mando i messaggi, ma voi andate a dormire, perché magari, insomma, a una certa età, dopo un po', ormai ne ho fatti cinquantasei, verso le cinque e mezza del mattino magari si va in bagno, no? Può capitare. E vedo le storie di Fiorello su Instagram, sono qua, e io schio, ma voi andate a dormire? A noi che ci svegliamo presto la mattina, lo sappiamo, è Fiorello di cinque, è già operativo. Ha cambiato la storia della televisione, lo adoro, lo adoro in modo di fare, e mi piace un po' ispirarmi a lui su alcune cose, anche se siamo diversi, però il suo entusiasmo cerco di portarmelo sempre dietro. E lo salutiamo, anzi è sempre spunto di ironia, riflessioni anche qua, di uno mattino estate, perché poi appunto anche noi utilizziamo tantissime cose che ha fatto lui a vivere i due. Allora, boss in incognito, Rossi in incognito, ma il tuo rapporto con il boss, chi è stato il tuo primo capo nella vita? Mio padre. Tuo padre. mio padre assolutamente, io lavoravo con lui nel negozio di famiglia, però mio padre c'era una voce inconfondibile, ti ho detto devi andare a prendere, mio papà è stato il mio primo boss, poi un altro boss è stato Pietro Garinei, probabilmente, del Teatro Sistina, che è stato un po' il primo che ha puntato su di me, poi un altro boss, chi può essere stato nella mia carriera, beh, Simona Ventura, quando facevamo quelli che il calcio, per esempio, che all'epoca era bella tosta, Simona saluta anche lei, beh, nella vita ognuno di noi ha qualche boss, lo incontra, portano anche bene, fanno bene. Assolutamente, e in casa chi comanda? Ultimo, siamo quattro in casa, ultimo, tutti per ultimo, ultimo, ma è giusto così, perché poi diciamo che non sempre sono a casa e quando sono a casa, l'unica cosa, ecco, l'unica cosa un po' è quando non posso dire di no, sul telecomando, vinci sul telecomando, soprattutto, cioè io so una sola vecchia abitudine prepatriarcale, proprio, cioè, quando c'è il tigiano la sera, se non voglio la pubblicità, però il telegiornale, mi piace vedere il telegiornale a tavola, grazie, mi sembra, hai visto, proprio la tradizione italiana, insomma, cioè, mi dà un attimo di pausa, che succede nel mondo, e questo mi piace un sacco. da sicurezza. Ma non era preparata, è la verità. Con Max mai nulla è preparato. Un'altra cosa, invece, che ha piaciuta tantissimo ai ragazzi, i più giovani, diciamo così, è stata la tua voce in Cattivissimo Me. Che esperienza è stata quella? Tanto vediamo le immagini mentre ne facciamo. Sì, c'è anche il nuovo, ad agosto. Cattivissimo Me è stato l'incontro col mondo più bello, quello dei bambini, quello, cioè, il mondo che ti fa, come ti posso dire, che ti dà un senso di pulito, di buono, e poi quando cambio questa voce parlo in questa maniera, tutti i bambini sono contenti. E poi sai cosa c'è la cosa singolare? Avrò fatto centinaia, forse anche migliaia, di vocali, audio, cioè, tipo, a qualsiasi latitudine. A bambini che te richiedono. Senti, per mio figlio, mi fanno noi genitori, genitori. Allora, dicevamo, il tuo spettacolo, Mollicine, nel frattempo che vediamo le immagini, mi vuoi raccontare che cosa, qual è la cosa che porti, cosa racconti? Ecco che vediamo, Max Giusti. Ma guarda, è uno spettacolo molto contemporaneo. Porti anche i tuoi personaggi, cioè ci sarà dell'Aurentis? Guarda, li ho inseriti adesso solamente dalla data del 28, ma sicuramente Alessandro Borghese lo faccio, nella versione invernale forse anche Aurelio dell'Aurentis. La festa di bucumperale li ho fatti entrambi, perché erano dieci anni, ormai otto anni che non facevo le mie parodie perché non avevo il posto deputato, neanche avevo troppa voglia, cioè a volte voglia di essere te stesso. E' uno spettacolo assolutamente contemporaneo, dicevo, anche il mio modo di fare comicità è un po' cambiato, probabilmente, anche sono stato un po', come dire, condizionato dalla stand-up comedian. Si parla di parità di genere, si parla di patriarcato, si parla di musica, no? Di come, ad esempio, si parla di musica trap, tantissimo, la trap è rappresentata ai massimi livelli, tant'è che sono andato a vedere Treviscott a Milano per cercare di migliorare ancora su questo aspetto. Si parla anche della musica invece che ascoltavano i nostri genitori, le nostre mamme, di come si racconta l'amore tramite la musica. Si parla di, cioè una cosa che mi piace tantissimo, del fatto che io ho sempre guardato un po' anche indietro, no? Cioè, mi piace moltissimo il fenomeno dei call center, di quando arrivano le compagnie telefoniche e se c'è una voce carina, giovanile, una donna, magari, i nostri papà, i nostri genitori, la tengono loro, cioè sono loro che non attaccano al call center. Anziché attaccare. Sì, sì. Max, prima di chiudere, Aurelio De Laurentiis ci invita tutti a teatro a vederti. Ma io dico che questo spettacolo, Bollicine, di Max Giusti è uno spettacolo che va visto, però se mi prende troppo in giro, ditemelo che lo denuncio. Grazie, grazie Max Giusti per essere stato con noi. Buona estate, buon tour e ci salutiamo con un altro programma al quale sei legatissimo, sempre Rai, Max Giusti, Affari Tuoi. Grazie Max, buona estate. Grazie a te, Giorgia, grazie a te, l'invito, anche a voi. Buonasera, buon sabato sera, ben ritrovati su Rai 1, ben ritrovati qui ad Affari Tuoi, il Veneto, Gianfranco, Gianfranco Genere, vieni, vieni Gianfranco, lo salutate dopo. Cele sì. Grazie a te, grazie a te.